E' morta Melody Pasini, la fidanzata di Riccardo Centurion, attaccante del Vélez Sarsfield, in presidio dal Racing Avellaneda, con un passato anche in serie. La ragazza Melody Pasini è morta in maniera tragica, stroncata purtroppo da un infarto, mentre era alla guida della sua automobile a 25 anni. Era molto attiva nei social network, avrebbe avuto un attacco di cuore alla guida della sua automobile, che sarebbe andata a finire direttamente contro un auto in sosta. La morte sarebbe stata causata dall'arresto cardiaco, non dall'incidente. Melody soffriva di cuore da come si legge su web da quando era piccola, ed era stata sottoposta ad un trapianto quando aveva solo 12 anni di età. Nei social, ovviamente, non si dà a pace il Wachiturro, ossia Centurion, che ha giocato anche in serie A con Genoa. Ha dedicato un lungo posto alla matafidanzata morta, un self insieme, una frase per esprimere il grande dolore e il cordoglio che riesce a provare in questi minuti. E la frase sarebbe la seguente, ti amerò per sempre, amore mio. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questo video non vuole vedere la vera quasi di Melody Pasini, né di Riccardo Centurion, il fidanzato, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo Melody Pasini si è spenta e morta, è passata a miglior vita. E che ovviamente questa notizia è tragica per come si presenta. Non aggiungo altro, un saluto caro Dariandro, narratore di...